Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta in nostra compagnia per questa seconda parte di Rassegna Stampa che ci porterà sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi, dei quotidiani locali di oggi, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Un sabato 25 agosto vigila di campionato per l'Udinese che domani affronterà alla Dacia Arena La Sampdoria, un sabato 25 agosto che è già giornata di campionato per alcune squadre che oggi scenderanno in campo in due anticipi importanti della Serie A ed è proprio a queste squadre che è dedicata all'apertura della Gazzetta dello Sport. Ecco qua il titolo, oggi due anticipi davvero importanti, Juve Lazio alle 18 e Napoli Milan alle 20 e 30. Ecco la prima pagina della Gazzetta dello Sport, CR7 a caccia del primo gol e poi sul fronte Napoli Milan Rino al derby con Ancelotti Gattuso e l'amico per la pelle. Un weekend pieno di pubblico e passione, titola La Gazzetta dello Sport e poi l'analisi di Luca Calamai. Serie A di nuovo al top, sono numeri da Scudetto, Sold Out all'Allianz Stadium, 50 mila tifosi stasera al San Paolo per il debutto casalingo di Ancelotti contro il suo Milan. e 60 mila presenze domani al Meazza per vedere se l'Inter può veramente puntare al titolo. Inter che domani affronterà il Torino alle 20 e 30. Spalletti punta su Brozovic e Cairo dice ce la giochiamo. Questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport che poi nel taglio basso guarda anche alla Serie B e anche agli altri sport. Vediamo l'anticipo di Serie B, Brescia si illude, Perugia 1 a 1 al 93esimo e oggi in campo il Palermo. Per quanto riguarda il ciclismo, il giro di Spagna, la partenza, Nibali da Squalo dice se supero l'avvio dico la mia. E poi ancora dal mondo dei motori, il Gran Premio di Formula 1 in Belgio e la MotoGP a Silverstone. Le Rosse vanno, Chimi e Dovizioso davanti nelle libere in Belgio. E già una Ferrari promettente, Bottas partirà dall'ultima posizione in Gran Bretagna. Vola la Ducati bene anche Valentino Rossi. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Noi andiamo a sfogliare adesso le pagine interne e andiamo alla ricerca dell'articolo dedicato alla nostra Udinese. Un articolo che punta in particolare sulla presentazione di uno degli ultimi acquisti dell'udinese Teodor Cic che promette a Udine per segnare il centravanti polacco arrivato dall'Underlecht alle idee molto chiare. Questo club è un passo in avanti per la mia carriera. E poi vediamo l'articolo firmato da Massimo Meroi che scrive così Teodor Cic è stato preso semplicemente per fare gol. Non si sa se le parole del responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè siano un assist o un pacco in più di responsabilità per Lukas Teodor Cic, il centravanti polacco che l'udinese ha acquistato dall'Underlecht e sembra comunque avere le spalle sufficientemente larghe. Anche perché lui stesso poi ribadisce il concetto. Sono arrivato da poco e mi sto ambientando quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per vedermi al meglio. Non ha ancora parlato con l'allenatore ma credo che si aspetti da me quello che so fare, segnare. Pradè ha sottolineato che c'erano parecchie squadre su di lui e che per l'udinese non è stato facile vincere la guerrita concorrenza. E poi vediamo anche le altre parole degli ultimi acquisti presentati dalla società ad Alessandro che spiega la scelta bianconera e dice mi ha attratto il gioco di Velasquez e poi il ganese Opoku che dice Gargo e Appia mi hanno dato buoni consigli. Ecco qua un riassunto delle parole dei due giocatori. Intanto domani sera nel debutto casalingo al Friuli contro la Sampdoria degli ex Quagliarella Iancco. In porta dovrebbe andare ancora Simone Scuffette nonostante l'errore sul secondo gol degli Emiliani. Musso è sempre out, potrebbe rientrare nella prossima sfida da Firenze. Baracchi in difficoltà a Parma dovrebbe costringere ancora alla panchina l'argentino Pussetto. Quindi in campo la stessa formazione che ha pareggiato alla prima a Parma. Queste le parole della Gazzetta dello Sport. Oggi ci sarà anche la conferenza stampa di mister Velasquez che seguiremo in diretta dalle 17.30 e dalla quale magari potremo capire qualcosa di più anche sulle scelte che farà domani sera per Udinese Sampdoria. Lasciamo la Gazzetta dello Sport sulla quale torneremo se avremo ancora qualche minuto a disposizione nel finale della nostra rassegna stampa sportiva e andiamo adesso sulle pagine sportive dei quotidiani locali. Siamo sul Messaggero Veneto, questa è la doppia pagina che apre il fascicolo sportivo sulla quale troviamo un'intervista a Pradè Io, Totti e Cassano Ludinese nel mio destino. Renzi Junior è uno dei tanti. Il responsabile dell'area tecnica bianconera racconta la sua carriera nel mondo del calcio. Dice ringrazio la famiglia Pozzo per avermi scelto. Un privilegio rappresentare il popolo friulano. E poi vediamo tutta l'intervista Daniele Pradè, uno dei nuovi idoli della tifoseria bianconera. Il motivo? La gestione dei casi De Paul e Danilo. Nel primo è stato messo a tacere il procuratore che diceva cose non vere, nel secondo è stato allontanato dal retiro e multato al capitano Reo di aver esagerato in un confronto con lo stesso dirigente bianconero. Agli occhi del popolo è una prova di forza, l'uomo che ci voleva per riportare ordine e rispetto delle regole, quelle che erano un po' mancate nell'ultima stagione. Il nuovo responsabile dell'area tecnica si racconta dopo quasi due mesi in bianconero a poche ore dalla sfida con la sua ex squadra, la Sampdoria. E poi vediamo tutta l'intervista in cui Pradè racconta un po' anche la sua storia, il suo passato. Vediamo infatti la prima domanda. Direttore c'è stato un Pradè calciatore prima del dirigente? Sì, nel settore giovanile della Lazio. Ragazzo interessante che da buon centrocampista si ispirava a Falcao e Giannini. Perché non c'è stato un seguito da professionista? Semplice, ti rendi conto che non hai il DNA dell'atleta e come giusto che sia. Cambi strada, studiavo e facevo il dirigente, primo ruolo, segretario sportivo alla Spes Omi. E poi vediamo tutta l'intervista al direttore sportivo dell'Udinese e vediamo la lunga intervista. Nel taglio basso la presentazione di D'Alessandro Teodorci e Opoku Bomberteo all'Udinese per fare il salto di qualità e Opoku che dice mi manda Gargo. Ecco, ci sarà tempo per conoscerli sul campo, esattamente là dove le parole lasceranno spazio ai fatti. Ma intanto altri nuovi bianconeri hanno proseguito nella carrellata rituale delle presentazioni. Ieri è toccato a Marco D'Alessandro, Nicolás Opoku e Lucas Teodorci che tutti e tre con qualcosa da dire, oltre al classico e scontato, sono qui per dimostrare il mio valore. E vediamo poi anche qui le parole dei tre giocatori. Ancora a proposito di mercato, in questo articolo di Spalla un bilancio sul mercato dell'Udinese, sempre attraverso le parole del direttore sportivo Pradè, abbiamo fatto grandi cambiamenti, adesso serve un po' di pazienza, ha detto. Le motivazioni che hanno portato al cambiamento gli investimenti fatti e le rinunce a cedere i pezzi pregiati, con l'aggiunta di una legittima perplessità legata alla possibile carenza di esperienza in squadra. Non ha dimenticato proprio nulla Daniele Pradè, sempre più a suo agio, nel ruolo di comunicatore oltre a quello di dirigente. Il responsabile dell'area tecnica ieri ha fatto il bilancio di fine mercato, mettendosi a disposizione dei giornalisti ai quali si è presentato con un foglio utile per un paio di annotazioni. E anche qui, poi abbiamo tutto l'articolo che prosegue. Per quanto riguarda la gara di domani contro la Sampdoria, vediamo in porta ancora scuffette, si va verso la conferma della formazione di Parma, gli avversari. Giampaolo punta sugli ex Quagliarella e Ianco, due ex potenzialmente letali come Quagliarella e Ianto, nel 4-3-1-2 alla Samp. Così ha deciso Marco Giampaolo che a dirla tutta qualche dubbio di formazione lo tiene ancora per sé ma senza coinvolgere i due ex bianconeri. Quagliarella sarà titolare, l'ex Ianco agirà da mezzala sinistra in mediana dove Barretto sarà il centrale e di Nettilla mezzala destra. I dubbi sono in difesa per quanto riguarda la Sampdoria. Voltiamo pagina e parliamo della prevendita dei biglietti per la gara contro la Juve. Ieri è scattata la corsa a un posto alla Daccia Arena per vedere Cristiano Ronaldo in coda dalle 3 del mattino per il biglietto. Anche a Udine impazza la Ronaldo Maria. Aperta ieri la prevendita per la gara con la Juventus del 7 ottobre, alcuni settori fanno già registrare il tutto esaurito. Manca più di un mese al big match del Friuli tra Udinese e Juventus, ma la caccia al biglietto per vedere da vicino le imprese di Ronaldo e compagni è già iniziata. Ieri, ufficialmente con l'apertura della fase di prevendita, che ha portato qualcuno a farsi addirittura la nottata, in attesa che le biglietterie dello stadio dei Rizzi alzassero la Sara Cinesca, tanto il timore di non riuscire a trovare il tagliando. Alle 3.30 è iniziata l'avventura di Dario Mauro e Ilaria Giusto da Varmo, che sono arrivati per primi ancora nel buio totale. e hanno detto che non potevamo rischiare di non prendere il biglietto, perché dobbiamo regalarli ai nostri papà Giorgio e Odorino. E vediamo anche una foto della gente in fila. Andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino, sempre per parlare di Udinese, andiamo subito sulle pagine sportive e vediamo assieme i titoli di apertura. Eccoli qua. Pradè promuove il mercato, stavolta abbiamo speso, ha detto il direttore sportivo Bianconero, che ha parlato a margine della presentazione dei nuovi arrivi. Così sull'addio di Danilo, è stato un grande professionista, ma era giusto che cambiasse aria, ha detto Pradè. E poi ancora ha indicato in Valon Berami il pilastro della rosa di Velasquez alle qualità del leader. Queste le parole di Pradè a proposito di Berami. Nella foto vediamo Teodorcik, D'Alessandro e Opocu, presentati ieri assieme al direttore sportivo, e anche qui abbiamo le parole dei tre calciatori. D'Alessandro parla da leader, dice devo essere un riferimento. La squadra lavora per prepararsi alla sfida contro la Samp, confermata la formazione. Vediamo anche Teodorcik e Opocu, che dicono l'Udinese è un sogno. Dall'Udinese passiamo al Pordenone, nella pagina accanto. Una favola senza il lieto fine, scrive il gazzettino. Gerardi addio, c'è Germinale. L'attaccante pordenonese ha risolto il contratto. Ora è libero di cercare una nuova squadra. Un anno fa era stato l'acquisto più importante, ma in campionato non ha quasi mai inciso. È finita male, scrive il gazzettino. Federico Gerardi da ieri mattina non è più un giocatore del Pordenone. Lo ha invece Germinale, nuovo attaccante nero-verde. A nulla è valso il rinnovo di contratto di mezza estate. La notizia era nell'aria, da qualche settimana si era iniziato a parlare della possibilità che l'attaccante, che tanti anni fa esordì con la maglia dell'Udinese, fosse sempre più vicino a dare l'addio al club della sua città. L'ufficialità è arrivata a poche ore dalla fine del calciomercato e ora la punta è libera di cercarsi una nuova squadra da svincolato. Ora sì, che al Pordenone serve davvero un attaccante, scrive ancora il gazzettino. E poi vediamo una sfida in famiglia, per quanto riguarda il Pordenone, finisce 9-0 per la prima squadra, tenuti a riposo Berrettoni e Misuraca, Gavazzi recupera la tripletta nell'amichevole con la Beretti. e di spalla è iniziata la serie B, ma il rebus non è risolto, il rebus per quanto riguarda i ricorsi delle squadre non ammesse al campionato. Andiamo anche sul messaggero Veneto e andiamo a vedere anche qui l'articolo dedicato al Pordenone, anche qui in primo piano abbiamo la stessa notizia, ovvero la risoluzione del rapporto tra Gerardi e il Pordenone. Addio a Maro per Gerardi, arriva il bomber germinale, il centravanti uscente rescinde, ma non volevo lasciare la squadra della mia città. Presa dal Fano, la punta lanciata da Mancini all'Inter, percorso inverso per Lulli. Ecco qua ancora l'articolo sul messaggero Veneto con la foto di Germinale del nuovo arrivo in casa Pordenone. Rimaniamo sul messaggero Veneto e per quanto riguarda il calcio, vediamo, apriamo anche una piccola parentesi sul calcio di Lettanti con la Coppa Italia d'eccellenza. È super sfida al Tognon fra Fiume e Torviscosa. Si apre la stagione, Nero Verdi alle 18, Fontana Fredda a corde non sale 20, Coppa Regione di prima e seconda al via. Il 2 settembre scatta ufficialmente oggi la stagione del calcio di Lettantistico regionale con la Coppa Italia di eccellenza. Le Pordenonesi sono impegnate in due gare e il promosso Fiume Bannia ospita alle 18 il Torviscosa alle 20 allo Stadio Tognon impianto che il prossimo 22 dicembre ospiterà la finale della competizione. Va in scena il derby tra Fontana Fredda e Cordenonesi. Ancora sfogliando le pagine del Messaggero Veneto andiamo a parlare di Basket e vediamo anche le ultime da casa GSA dal ritiro di Gemona. Simpson, io e la GSA ci assomigliamo, siamo molto ambiziosi. Parla la guardia americana chiamata a sostituire Dykes. Sono rimasto colpito dal talento di Powell e Cortese. E poi la foto dell'americano Travis Simpson. L'avventura udinese di Travis Simpson è iniziata con qualche colpo di tosse di troppo. Una fastidiosa bronchite ma l'inconveniente è stato smaltito e il 27enne esterno nato ad Aglas in Georgia sta lavorando sodo per presentarsi al meglio alla tifoseria friulana. E poi vediamo anche qui tutta l'intervista e con questo articolo dedicato alla GSA noi chiudiamo questa nostra rassegna stampa di oggi prima di salutarci come sempre vi ricordo i principali appuntamenti su Udinese TV ecco la locandina ecco il box che ci ricorda la conferenza stampa di Mr. Velasquez alle 12.30 una conferenza stampa prepartita per presentare la gara di domani sera con la Sampdoria noi saremo ovviamente in diretta per seguire assieme a voi la conferenza stampa subito dopo l'appuntamento con il Tg il Tg di pranzo alle 13.30 la finestra informativa delle 19 come ogni giorno con tutti gli aggiornamenti di cronaca e di sport e poi alle 21 in prima serata come leggiamo nel box mondo crocele è tutto per questo nostro buongiorno Friuli noi ci fermiamo qui per il momento ma vi invitiamo come sempre a rimanere in nostra compagnia buon proseguimento di giornata a tutti voi a tutti